Ciao, sto uscendo dal Museo dell'Ermitage qui a San Pietroburgo. Wow, ti dico solo questo? Wow! Una cosa meravigliosa? Ho visto talmente tanta bellezza che mi sono nutrita e rigenerata. Molte persone mi chiedono spesso come fare ad innalzare le loro vibrazioni. E ci sono tanti, tanti modi. Uno di questi è proprio nutrirsi della bellezza. La bellezza può essere arte, può essere natura, può essere guardare un bambino, può essere qualunque cosa. L'importante è che tu sia pronto a vedere, a guardare e sia pronto a nutrirti di questa bellezza. Ti auguro una bellissima, bellissima giornata e ti auguro di vedere bellezza tutto intorno a te. Ciao, a presto! Ciao, a presto!